Matteo Messina Denaro, notorio capo mafioso di 61 anni, attualmente si trova ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale dell'Aquila, in uno stato comatoso irreversibile. La sua condizione di salute è critica, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. Nel caso in cui non si verifichino miglioramenti significativi, potrebbero prendere in considerazione la sospensione dell'alimentazione. Una decisione difficile, ma eticamente ponderata alla luce della prognosi. Questo sviluppo rappresenta una tappa significativa in una lunga storia di criminalità organizzata, sottolineando la vulnerabilità persino dei potenti boss mafiosi di fronte alle conseguenze del loro stile di vita criminale. Nel frattempo, le autorità continuano a vigilare attentamente sulla situazione, prendendo in considerazione ogni possibile implicazione legale e di sicurezza pubblica. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video.